Progetto molto ambizioso, davvero di grande portata, si tratta di trasporti, trasporti transfrontalieri. A partecipare ci sono anche diverse nazioni, si chiama Easy Connecting. Trasporto merci, le reti logistiche, gli interporti, i sistemi portuali e quanto dovrebbe servire per ottimizzare questo raccordo tra i paesi dell'Unione e non per creare quello che si dice una best practice all'interno proprio della logistica e del movimento merci. Ma riteniamo che l'interlocuzione con i paesi che in questo momento sono più attrezzati di noi e da cui copiare queste best practices può essere utile per la circolazione della conoscenza e la circolazione delle risorse. È un programma IPA Adriatic che vede la regione Abruzzo sempre presente a formulare un modo nuovo di intendere anche il sistema trasportistico, non autoreferenziale e rifratto su se stesso ma in una continua interlocuzione che fa in modo che senza presuntuosamente ergerci a artefici della nostra fortuna riteniamo di dover condividere il tutto con i paesi che con noi collaborano. A partecipare pubblico e privato per cercare di rafforzare poi quello che è un disegno macroscopico? Ma questa è la chiave d'intento della giunta d'Alfonso, quello di camminare a fianco dell'impresa camminiamo a fianco dell'impresa nel sistema trasportistico, nel sistema turistico, nel sistema culturale anche a certificare una sorta di selezione naturale di quelle che sono le eccellenze all'interno di questo territorio.